Nel bosco di Capodimonte di Napoli si stavano svolgendo gli incontri di Kung Fu. Uomo, sai che stai proprio bello con questi capelli? E perchè a base non ti piace? Ehi, Bruce! Tocca a te! Bruce, mano violenta, doveva affrontare Totonno Spicciato. Quello che non sapete, amici, è che, tempo fa, la sorella di Bruce si era uccisa per amore e Totonno Spicciato. Seguiamo lo spoggersi dell'incontro. E a chi è cagato, cazzo, che è tutta la mattonella? Gennaro! Ciao! Gennaro! Gennaro! Toto, ma è niente di stupo! Ehi, è il clopo di Bruce! Ehi, è il clopo di Bruce! Toto, ma volete fare una bella e sfuggiate? Ehi, è il clopo di Bruce! Ehi, è il clopo di Bruce! Intanto, tra il pubblico, Gennaro Chiebriland, Frangetello Capecchione e Michela Mazzescova assistivano all'incontro. Ehi, sono qui! Ma quanto molti vedi? Ehi, 40! Ehi, il clopo di Bruce! Non ci faccio! Ma guarda la madre! La greppa va cantare! Non ci faccio! Non ci faccio! Pra tutto! Bruuuuuteee Eeeeeeeh, da la Bruuuuuteeeeeeeeee EI, non è il duio. C'è un mani, EU e poi... Bruce aveva compiuto la sua vendita, o quasi. Potere del vino di Gragnano, vieni a me. Ohaah! 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 Toto! Acuantico da mazette! No! Bruce, mano violenta, non perdona. Ma secondo me ti è cagata proprio sotto, eh? Ma una mutandina di serva, oh! Ma io, è proprio un mostro, Bruce! E un e due, a un manino, e un e due, e un e due, e un e due. Ah, penso che mi va a rifiare, come va a fare? Come va a fare? Come va a fare? Come va a fare? Signor Capellono, scusate. Volevo dire che ho scoperto bene da poter si vede a tagliare i capelli. Ok.